Ed è per questa serie di motivi che scaldare il proprio tè con un acceleratore di particelle potrebbe non essere una grande idea. Ma non soffermiamoci su queste stupidate. Parliamo di cose molto più serie, per esempio perché davanti a me ho un errore. Non si sa. Ma parliamo anche di me. Io sono Mr. Fede. Ho fatto liceo, elementari e medie in quest'ordine. Per poi laurearmi al Politecnico di Milano con una tesi sui diologrammi. Altro mio grande successo, ho portato un barbaro dal livello 1 al livello 14 in Dungeons & Dragons senza morire una volta. Raid, linea completa contro gli insetti sgraditi. Li ammazza tutti, stacchiti. Aerare il locale prima di soggiornarvi. E io cosa sono qua a fare? Vi chiederete. Sono qui perché con voi parleremo di scienza. Oh, Fede, 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 quel coglione mi ha buttati via degli altri. Oh, che bello, grazie. Ciao. Parleremo di scienza. Nel mio canale, Fede to the future, affronteremo 465 argomenti differenti, tutti inerenti alla scienza. Fino a scoprire il motivo per cui davanti a me c'è quest'è. Il primo appuntamento sarà sui laser. Quindi, state collimati. Che battuta di merda! Ciao. Grazie a tutti.